E' lunga 10 metri, si estende verso il mare ed è solo una parte del progetto dedicato a chi ha una disabilità motoria. Siamo a Sassonia di Fano dove da qualche settimana sono iniziati i lavori per questa passerella che renderà anche la spiaggia libera accessibile a tutti. Abbiamo fatto questa piattaforma, è una passerella, abbiamo posizionato, diciamo, fatto i lavori sopra una passerella già esistente. Abbiamo comprato queste piattaforme che serviranno appunto da un'area, uno spazio riservato a chi ha dei problemi motori. Quindi il disabile o comunque che ha problemi ad ambolare può sostare in queste aree, piantare il sombrellone e comunque avvicinarsi alla battigia e al mare. Questo è un prototipo, una sperimentazione, il prossimo anno miglioreremo e speriamo di riuscirne a fare delle altre nella spiaggia libera per dare la possibilità a tutti di venire al mare. È un forte segnale, ha poi commentato l'assessore Dimitri Tinti. L'iniziativa rientra nel percorso iniziato dal tavolo dell'accessibilità istituito dall'amministrazione comunale. È un impegno forte perché noi vogliamo rendere con tutte queste azioni Fano sempre più una città aperta, accogliente e soprattutto accessibile per tutti. Nei prossimi giorni verranno anche acquistati lettini e ausili per la mobilità grazie a un contributo del bando regionale vinto dal comune di Fano per il progetto Spiaggia Accessibili. Il bando è stato presentato dagli assessorati a welfare di comunità e al turismo con la partecipazione di Oasi Confartigianato e in collaborazione con l'avvocato Alessia Di Girolamo dell'associazione Paraplegici Marche. Questo desiderio, ed è un diritto, di poter accedere alla spiaggia libera era stato già avventato tempo fa anche da Monia Andreani e attualmente su sollecitazione chiaramente di chi vive quotidianamente una condizione di disabilità motoria mi è stato presentato presso il centro di documentazione Indicap, il CDH, nonché come associazione, questa istanza e soprattutto si è presentato anche con un progetto in mano il signor Ranaldi tant'è che abbiamo subito presentata questa istanza all'assessore Fabiola Tonelli la quale l'ha recepita immediatamente e nel tempo possibile, considerando anche che sia stato il lockdown si è potuti arrivare alla realizzazione di questa passerella. Chiaramente, come dice anche la stessa assessore, è una condizione così in work in progress verrà completata con una passerella mobile che permetterà giustamente alla persona di arrivare in acqua questa cosa sicuramente entro l'estate verrà appunto posizionata quindi credo che sia un primo passo proprio nel rispetto del diritto e dell'inclusione della persona perché la persona non può stare alla finestra, in questo caso sulla passeggiata a guardare il mare ma deve andare in mare. Grazie 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 Grazie